La grande sfida per il futuro della calzatura è trasformare il mercato in una grande conversazione con il cliente finale, specialmente con il cliente che si trova dall'altra parte del mondo e che certamente non può essere aspettato dentro al negozio. Perché il mercato è una conversazione? Perché la calzatura è un elemento identitario, va compresa. Certamente bisogna spiegare il prodotto, ma bisogna imparare il cliente, il suo linguaggio e il suo sistema di attese. Il negozio è soltanto un punto di transito di questa relazione. La conversazione inizia molto prima, inizia sui blog, inizia sui social network, da lì si sviluppa, poi passa tramite il negozio e poi continua nella gestione delle aspettative del cliente. Imparare a gestire questa conversazione è la grande sfida dei giovani calzatorieri e del branding. Certamente più vero tutto questo quando la calzatura, insieme al segmento delle borse, quindi quello che chiamiamo tradizionalmente il segmento degli accessori, è diventato in assoluto il segmento più importante del settore del lusso. È quello che cresce di più ed è quello che in questo momento dà più prospettive. Quindi non più l'umiltà, come dire, un po' difensiva di chiamarsi accessorio del lusso, ma oggi questo accessorio è diventato definitorio, è diventato elemento di affermazione di identità, che, come si diceva prima, non è più solo un problema di distribuzione, ma di conversazione con il cliente finale. In questo processo di conversazione bisogna capire una cosa molto importante. Internet non è un canale di vendita. Internet è un luogo di incontro dei nuovi mercati. Serve solo alla fine per vendere, ma serve impararne il linguaggio, perché lo vediamo, tutti i grandi brand del lusso negli ultimi due anni hanno decuplicato, moltiplicato per 20 il numero dei loro fan su Facebook, il numero dei loro colloqui fatti su Twitter. Il consumatore non è più tale oggi, non è soggetto passivo, meramente recettivo della proposta stilistica. Vuole essere ascoltato, vuole chiedere, vuole rispondere. esso stesso si candida a diventare, in un certo senso, avvocato del brand quando lo ha sposato. Quindi, alle imprese, la grande sfida è di comprendere il linguaggio delle nuove tecnologie, non semplicemente come prosecuzione del negozio, ma come grande opportunità, quella che chiamo la sintassi di questa conversazione. Quindi, importantissimo entrare in quest'ottica, accettare, scendere. Certo, qualche rischio di venire messo in discussione c'è, ma chi ha consapevolezza e forza del brand non deve temere nessuno. E' perché quella è la strada per spostare il tema dal mercato in crisi dell'Europa, dell'Italia che non cresce, ai grandi mercati che aspettano l'Italia, la vogliono, la cercano e hanno bisogno di essere ascoltati.